Tra il 2014 e il 2019 la regione toscana ha investito oltre 5,4 miliardi di risorse proprie per le infrastrutture su ferro e gomma, su mobilità e ciclovie. È quanto emerso dal convegno La Toscana che si muove a Santa Pollonia, a Firenze, a cui hanno partecipato il presidente Enrico Rossi e l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, che però hanno sottolineato il ritardo dello Stato nell'esecuzione di opere ritenute strategiche per 7,6 miliardi a fronte dei 13 miliardi programmati, da qui la richiesta al governo. Dare assoluta priorità all'alta velocità e alla stazione di Firenze senza la quale non entra più neanche uno spillo nell'attuale stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, quindi non si possono neppure aumentare i treni regionali. Significa anche dare alla Toscana una pista adeguata perché non è il problema delle piste ma è il problema degli aerei che è alla fonte delle emissioni di CO2 e una pista adeguata, anzi riduce l'impatto anche di CO2. Significa dare alla Toscana un corridoio tirrenico che metta in collegamento il nord e il sud del paese. Dal 2013 sono entrati in servizio in Toscana 70 nuovi treni e altri 4 nuovi treni ROC arriveranno a inizio 2020 grazie al nuovo contratto di servizio con Trenitalia e con 250 milioni di risorse regionali è iniziato il raddoppio della Pistoia Lucca, già avanzata nel tratto fino a Monte Catini. Importanti risultati sulle linee tramviarie nell'area fiorentina e sui raccordi ferroviari al porto di Livorno, 22 le opere programmate sui 746 chilometri di strade regionali e 26 milioni per il piano di interventi sulla FIPILI e poi 363 nuovi bus a cui se ne aggiungeranno 83 a inizio 2020 mentre è in vigore il contratto ponte per il TPL su GOM. Tutto questo fa parte di una strategia che è racchiusa nel nostro piano regionale integrato delle infrastrutture della mobilità di cui oggi facciamo il monitoraggio annuale ma anche di legislatura che vede la regione, gli antilocali ma con una forte condivisione del sistema economico e sociale toscano nell'affermare una mobilità sostenibile che è fatta di TPL ma è fatta anche di infrastrutture utili e connesse. Mobilità sostenibile significa anche bicicletta grazie ai progetti della ciclovia dell'Arno, della ciclovia tirrenica, della ciclovia del sole e della superstrada ciclabile di collegamento tra Prato e Firenze nati e cresciuti negli ultimi cinque anni.